Dunque a me è toccato parlare soprattutto di qualità, efficacia e sicurezza, sempre applicato al contesto delle cure a casa e in particolare di quelle palliative sui malati avanzati. Il concetto di qualità è un concetto che mi ha sempre in qualche modo turbato, cioè secondo me pensare alla qualità vuol dire pensare a un'idea così profonda, così vasta, così variegata da forse aver bisogno più di un filosofo che di uno di noi per parlarne. C'è da dire che nella realtà di ogni giorno noi riferiamo la qualità a un contesto più specifico, più delimitato e forse questo un pochino ci aiuta. Io ricordo comunque che la prima volta che mi trovai a impattare in modo chiaro e preciso nei confronti della qualità era agli inizi degli anni Ottanta, quando con il gruppo dell'Istituto di Tumori di Professor Venta Frida eravamo circa dieci gatti in tutta Italia che incominciamo a parlare di cure palliative di malati terminali e ci arrivò quasi imperiosamente dal mondo anglosassone che era avanti a noi su questo settore dicendo ma sono le cure che hanno come obiettivo la qualità di vita del malato avanzato e terminale. Io che la facevo già da qualche anno avevo da una parte il malato avanzato e terminale dall'altro avevo questo concetto di qualità di vita e mi sembrava quasi un paradosso riuscire a mettere insieme questi due aspetti apparentemente stridenti salvo poi col tempo capire che forse un pochino di quel sole che c'è sulla persona che non è un malato così grave e così avanzato si riesce a immettere anche in situazioni veramente molto gravi e molto difficili sotto molti punti di vista e questo fu il primo impatto sulla qualità in realtà non voglio parlarvi di qualità della vita cercherò di parlare di alcuni aspetti di qualità nei seguizi e nella sanità io credo che qui si sia espresso una larghissima gamma di vedute di pareri c'è chi pensa che buona parte della qualità dipenda anche dalla bellezza o dall'efficacia o dalla anche dall'estetica perché no delle strutture questo un modello di un ospedale progettato e penso mai fatto peraltro qualcuno pensa che la tecnologia avanzata sia significativa per migliorare i processi di diagnosi di cura e forse anche risparmi di tempo e di denaro e quant'altro c'è chi pensa che proprio l'aspetto economico e se ne è già parlato lungo per cui non mi dilungo tra quanto si spende e che tipo di servizi si ottiene sia un elemento importante della qualità io in realtà mi sento più un po' più un uomo di cultura per certi versi tradizionale e penso che buona parte della qualità delle cure che diamo comunque abbia a che fare con la conoscenza e con la cultura dei medici e questa cultura e conoscenza ormai mi sento di dirlo abbastanza tranquillamente avendo vissuto in ospedale per 33 anni e vivendo in un centro di ricerca da circa due anni è un continuo interscambio tra la ricerca che aiuta la clinica e la clinica che deve ritornare sulla ricerca attraverso quella che viene definita la ricerca traslazionale.